Come giocatore polivalente, non credo che qualcuno possa paragonarsi a Paul Gascoigne. Non c'è dubbio che Gaza sia tra le persone più amate nel nostro paese. Gaza è al centro della Gazza Marina. Parte del suo genio è la sua vulnerabilità. Forte fisicamente, ma anche con una grande tecnica. Senza quella sua spensieratezza, senza tutte quelle cose che sappiamo di Gaza, non credo che sarebbe diventato il giocatore che è stato. La tua posizione per molti sarebbe un sogno, ma può anche diventare un incubo. Sull'aereo si avvicina Gary Lineker e mi dice, Paul, sta a tempo. Gascoigne diventerebbe il calciatore più ricco al mondo. E' il migliore al mondo. Veramente, il migliore al mondo. La sua era sfrontatezza. E' sempre stato un esempio da seguire per come giocava e credo sia il più grande giocatore inglese. Fu la partita con l'Olanda, quella in cui Gaza è emersi come talento di livello internazionale. Quel giorno, l'atmosfera era incredibile. La squadra inglese si sta preparando alla partita più importante dopo la vittoria nei mondiali del 66. Sono stati momenti in cui un intero paese ha pianto con un calciatore. Dotti fantastici che ne facevano un grande giocatore. Credo sia il gol più bello mai segnato per l'Inghilterra.